io ora c'era da tardi guarda non c'è la rubrica fai così come ci fai a segnare i numeri? non ti fai lo squiglio ecco 3,5 che vabbè sta a vedere? finita non ci stanno da tardi ragazzi ciao ma dovremmo fare il primo disco lavori prendi un po' di là fai un po' la foto una bella cassetta